Ma anche i vostri inviati sul terreno hanno fotografato la situazione come si sta sviluppando, cioè sostanzialmente i russi stanno cambiando il loro assetto tattico sul terreno, ripiegano dal nord, allontanano le truppe da Kiev, aumentano la pressione militare sull'est, il Donbass e il sud nella fascia di terreno da Mariupol sostanzialmente fino a Odessa, perché questa è la divisione del territorio che evidentemente il Cremlino ha in testa e che in qualche maniera vuole ottenere attraverso i negoziati che iniziano oggi a Istanbul. I segnali che ci sono stati nella giornata di ieri con gli ucraini che dicono accettiamo la neutralità e i russi che fanno trapelare un sì all'Ucraina nell'Unione Europea sono tutte indicazioni che lasciano intendere che c'è una convergenza. Tutto questo ci riguarda direttamente perché sappiamo che sul tavolo c'è anche l'ipotesi di un gruppo di contatto composto dalle cinque potenze che hanno il potere di veto nel Consiglio di Sicurezza più un gruppo di importanti paesi europei all'interno del quale c'è l'Italia per un totale di un gruppo di contatto di dieci nazioni che dovrebbero essere le garanti di un accordo di cessato il fuoco fino all'ipotesi che resta un'ipotesi di inviare truppe di interposizione fra le due parti sul mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Insomma siamo in un momento di passaggio dove la situazione è in movimento sul terreno ma i russi, attenzione, stanno arretrando nel nord perché la resistenza sta avendo dei successi importanti e a Istanbul dobbiamo riuscire a capire nel prossimo 48 ore se è possibile che questo schema che ho accennato possa davvero iniziare a continuare.